Ci ha impiegato 12 minuti ad andare a segno nella tabella dei marcatori Simone Raffini. Minuto 75, spiovente dalla sinistra di Giovinco, torre di Nocciolini e un gol così proprio non lo poteva sbagliare il numero 7 giallorosso. Il Ravenna deve ringraziare il classe 96 al primo timbro stagionale per il terzo gol al Gubbio che domenica ha rimesso in equilibrio una sfida vissuta tutta in salita. È chiaro che ho detto anche in settimana che il gol mi mancava, quindi sono contento che è arrivato e ho detto anche che avrebbe aiutato il Ravenna. Tutto sommato l'ha fatto e quindi diciamo che ci portiamo a casa un punto e sono contento anche perché comunque abbiamo dimostrato avere un grande spirito riuscendo comunque a rimontare tre volte il risultato, nonostante comunque siamo consapevoli del fatto che bisogna che stiamo più attenti perché tre gol così diciamo che non li possiamo prendere, soprattutto per come siamo noi come squadra.